TECLA è un acronimo che significa Tool per l'economia circolare nel legno al reno. È un tool che abbiamo sviluppato in Federlegno per aiutare le imprese a misurare il loro grado di circolarità. Si compone di una serie di domande che varia in complessità e lunghezza a seconda del livello di maturità dell'azienda e restituisce un profilo numerico su sei aree di intervento nelle quali l'azienda può capire quali possono essere i suoi punti di forza e di debolezza sull'economia circolare e dei feedback specifici che abbiamo scritto pensando alle aziende del legno al redo e a quelle che possono essere i passi che può un'azienda intraprendere a seconda del livello a cui è giunta. Qual è il risultato? È un feedback dove per ogni macro categoria noi andiamo a individuare quelli che sono i valori di circolarità dell'azienda e questo può permettere di ripartire e capire quelli che possono essere degli spunti di miglioramento per l'azienda. Adesso stiamo facendo questa fase di test nella quale cerchiamo di derivare quello che è un dato per noi importante, cioè a che punto siamo. Quando avremo una base di dati sufficienti potremo cominciare a fare dei ragionamenti anche nel tempo per vedere come si spostano e dove si spostano i comportamenti delle aziende. Grazie. 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 Grazie.